felici di lanciare il nostro nuovo progetto di comunicazione digitale il nostro nuovo magazine digitale che direi doveroso in questo momento di trasformazione del mercato di evoluzione del mercato tutto sta cambiando tutto si muove a ritmi molto molto elevati e quindi anche la nostra comunicazione non può essere da meno il magazine digitale sostituisce il nostro magazine cartaceo e si caratterizza per una fruibilità molto elevata all'interno infatti abbiamo contenuti e link a portali dei nostri vendor contenuti integrati link a fonti autorevoli di mercato ricerche di mercato link a video link a data sheet white paper che supportano notevolmente il business il posizionamento dei prodotti e di conseguenza l'informazione favoriscono l'informazione sul mercato direi in tempo reale questo strumento di comunicazione digitale ha una finalità principe che è quella di ottimizzare la prebassività della comunicazione e questo infatti il nostro obiettivo essere presenti comunicare avnet comunicare la nostra realtà comunicare anche la nostra capacità di presidiare il mercato di offrire contenuti autorevoli di offrire servizi servizi importanti quindi sono veramente contenta ecco di aver fatto questo passo di aver di aver lanciato di aver lanciato come avnet questo importante strumento di di informazione che verrà comunicato non solamente attraverso i mailing di vario tipo anche grazie al supporto di digital for trade ma che verrà comunicato anche attraverso i canali social al giorno d'oggi molto importanti per soddisfare l'esigenza di informazione del mercato questo primo numero parlerà di convergenza di per convergenza e nei prossimi ci dedicheremo a tutti i nuovi trend del mercato ma cercheremo di rispettare le esigenze di informazione dei nostri partner dei nostri vendor e del mercato in generale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti